Allora, a seguire il secondo carro, quello del rione Piante, dal titolo Solopacalandia, sicuramente sarà qualcosa di particolare, c'è questo trenino che, diciamo, sta trascina così il carro numero due, quello del rione Piante, andiamo a vedere di cosa si tratta, tutte giostre, soprattutto per i bambini. Mi scusi, ecco, allora voi avete fatto questo carro numero due, Solopacalandia, insomma un paese, ecco, un parco giochi. Sì, è un parco giochi trainato da un trenino giocattolo a corda e dentro ci stanno gli elementi caratteristici di un parco giochi e alcuni elementi che sono poi dei giocattoli veri e propri, come quelle tende indiane, che sono di pelle e fatte come si deve, però ci si può giocare ai soldatini, lo stesso la zatterina, le casette, il trenino è proprio un giocattolo. E la novità di questo carro è che abbiamo allestito pure una copertura per il trattore, che è in purissimo cartone, recuperato alla cantina sociale, quindi è in pandan con la manifestazione, anche il cartone del carro. Bene, ecco, allora noi dopo aver ammirato questo carro numero due, ci accingiamo ad assistere al numero tre. Ecco, il secondo carro, inquarrato, inquarrato, con il numero due, rappresenta Solopacalandia, un carro senza particolare significato allegorico, ma un carro molto delicato, gioioso, delicato e gioioso, che rappresenta un parco di divertimenti in miniatura, tirato da una locomotiva, da una locomotiva che sbuffa, e naturalmente in questo parco di divertimenti potete ammirare tutti i giochi che sono presenti in un parco. Una Disneyland in miniatura, c'è la giostra, c'è la ruota, c'è il trenino. Ecco, questa è una giostra che ruota, un beliero che si muove in uno specchio d'acqua, un trenino. Ecco, adesso vedete una visione complessiva, ecco il trenino in movimento. Per questo, migliaia di chicchi di uva bianca, bianca e nera, sono state utilizzate per preparare questo carro. Preparato dall'officina Carraiola, il Torchio, il Torchio. Mi vorrei far soffermare, vorrei far soffermare sul fatto di come i trattori, i trattori che sono un mezzo di lavoro e di produzione, vengono utilizzati per creare i movimenti dei carri, addirittura questo trattore, oltre a creare il movimento, è stato truccato da locomotiva. Vedete ancora alcuni aspetti complessivi di Solopacalandia, preparata dal rione Piande. Riparte il carro, mentre tutti i presenti ammirano i movimenti, vedete come sono sincronizzati, e il tutto è provocato dal trattore, dal movimento del trattore. Bravi questi amici del rione Piande. C'è anche una mongolfiera, una mongolfiera che sale e scente.